avete la mamma pelada sbalm bello a tutti ragazzi e bentornati al canale di clan rgr scusate sono dovrei essere dei sniper ma ho cambiato il nome anche stavolta e mi chiamo non name nome molto originale come lo farete non ho neanche un microfono perchè mi si è spaccato come ben vedete siamo su cat mario per il secondo episodio di sdrog mi è toccato di iniziare tutto ecco appunto ora faccio di nuovo sto livello perchè non me l'ha salvato e ci vediamo dopo bella ok eccoci ho già fatto il primo livello adesso siamo al secondo non mi ricordo bene perchè eravamo arrivati il volume ok eccoci bagliato non lo ricordo mi spiace scusate per la mia assenza anche nel canale però non mi vedo nemmeno tanto attivi per esempio tipo nell'ultimo video eravamo un po' meno di problemi e quindi e quindi ehm innanzitutto ehm infatti giusto ehm non so che non so che un nome darmi quindi ero sbagliato ok come si fa morire datemi voi un nome mmm originale perchè io non ho idea cioè il nome non è stato neanche una mia idea sinceramente si vabbè c'ho ehm è stato di bello un mio amico ma proprio perchè non ho nomi quindi farebbe un po' mi piacere se qualcuno mi 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 dicesse un nome così un commento quindi quello anche a basso voce non guarda ok eravamo arrivati qui se non mi sbaglio se non mi sbaglio nel collecano qui proprio qui ecco da qui poi non mi riodo più nulla già non mi riodo più nulla non l'ho mai fatto mi rivedo ehm ehm in questi giorni che lag ho avuto un po' di problemi con la scuola quella ragazza che ho lasciato che ci siamo lasciati ancora ehm intropica proprio appela da ok ci faccio pagare ehm anche Rector ha avuto dei problemi nel di fare dei video ora stiamo già pensando a che video sì vabbè che video potremmo fare tutti insieme così per attivare un pochino su un canale insomma così per fare qualcosa tipo League of Legends mamma mi fa cagare non lo so scaricato perchè lo avevo provato ci avevano tutti ci avevano tutti ho detto boh proviamolo invece fa mi sento proprio di averlo scaricato pochino 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 ah ecco il mio amico mi ha detto di salutarlo nel video quindi saluto Elio si chiama Elia ciao Elia mi raccomando spollice grazie grazie per il contatto italiano mi raccomando questo sicuro al 100% anche se poi alla fine gliel'ave ho detto ma comunque ehm mi raccomando su questo nuovo video mettete subito un bel mi piace e porco oh no me ne scordo me ne scordo mmm ma porco di di ghe di ghe eh mi raccomando non destegniamo su questo nuovo canale nuovo canale si un nuovo canale un bello fatto che c'è bello ehm saltiamo ok ora questo qua ora qui c'è da saltare ehm insomma siamo ecco eh registrato siamo già 4 minuti e non hanno fatto nulla siamo messi bene ora se c'è un impegno ora sto un attimo zitto uno due vai vai salta fuori c'è il cubo oh che cazzo questa non la sapevo ma porco di ghe e forse adesso non ce la faccio non ce la faccio eh ragazzi madonna di dio devo voler un tutorial un tutorial porca puttana proia che a farla a quest'ora mi lo mette a fare i video che sia ben chiaro i video non è che li faccio perché non mi vanno cioè di farli che non ho tempo ok si ma no ma perchè devi andare lì perchè devi andare lì poi ve lo sentirei io come come viene con questo cazzo di microfono del computer ora tenterò di portare un po' in più video ora vedo fin' sta cazzo di serie di cat mario perchè al mio ultimo episodio l'ho visto e tante visualizzazioni mi piace se mi vuole questa serie mi è piaciuta anche se ne ho scelerato molto diciamolo 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 puttana eva è l'unica cazzata che mi pensi di aver fatto su questo canale l'unboxing non la farò mai più ve lo giuro ho fatto una cazzata io non intendo rifarla ah me la devo saltare giusto porco cazzo dai sei minuti salta in aria non si stacca mai eeeh come avete visto dall'ultimo video portato da Dynamic c'è Titanfaller cazzo new generation proprio me lo vorrei avere anch'io per cazzo vabbè basta l'ultimo poi taglio taglio la parte e va avanti che devo fare ragazzi posso schellare 10 minuti di seguito devo anche andare via ma dottia a tempo ok che arriva puttana stilo di merda cattumario perchè anche chi è la prima l'ultimo sono sette minuti allora mi chiedo ancora scusa però cercate anche voi di essere un po' inattivi perchè abbiamo un certo numero iscritti tipo negli altri video eeeh 100 iscritti 100 visualizzazioni almeno ai miei ma anche ai miei amici ai no aspetta ho sbagliato insomma ci si arrivava e ora invece no non so perchè siate poco attivi quindi vi devo vi devo non è la parola concentrati 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 spolliciate eh ok 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 what the fuck oh mio dio check point check point check point non provo non cazzo di provo 7 minuti orca ecco il messaggio significa che scusatemi un attimo ora torno eh ok eeeh c'è un messaggio forse lo faccio di 12 minuti perché è troppo lungo sto cazzo di episodio eeeh spionato porca che cazzo è successo 1-23 pochè la merda di assoluta porca che roba 1-24 allora torri 1-3 olle le camere sotto il tuo ballo questa e che è sta roba ma che cazzo ma che cazzo che cazzo ma che cazzo ma che cazzo super è tutto un bug ma è tutto un bug ma che cazzo ma che cazzo che è la roba ma non manco morto lo tocco Stai a vedere eh To, to, to Arato Sponchillato Mi tocca a farlo tutto Vabbè son coglioni Son coglioni A rifarlo tutto ora Mi partono madonne Sbagliato Vai Vai, vai, vai Veloce, muoviti Già capito il trucco Non ti girare, non ti girare Eh no, ce la fa, ce la fa mia Ho sbagliato, ho sbagliato Vai, vai, vai giù, vai giù Vabbè va, va bene Porco dia Via, via, via No Che mamma mia Che schifo Uno, due, via Allora Porca puttana Vai, vai Muoviti 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 La fa casare Io però Gesù Cristo Mi sa che durerà di più di una puntasta Cioè di 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 cazzo sono i livelli Dai Su Perfetto Perfetto Che faccio Però Sono i livelli Via, via, via Sponchi il lato come le merde Guarda Guarda Mi fido Mi fido Oddio 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 Che rischio Cazzo succede ora No ti giuro se muoio Su delle bestemme Lo sapevo che c'era un trucco Corri, corri, corri Corri, cazzo 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 Corri Cazzo Corri Meno male Bell'incazzato Vai, muoviti Oh, melluglia Corri però Mi ha giunto Ah, oh Ok Ci abbiamo fatta la riga La più forte Spero questo video Vi sia piaciuto Mettete mi piace Commentate So che Commentare chiedo troppo Però A me Dite il nome No name Le snipe Bello merde No name Ehm A più presto Vi porteremo Una nuova serie Sul canale Insomma In cui Possibilmente Potremmo Trovarci Tutte e tre Ora Sicuramente Non vi posso leggere Insomma Un giorno Ora vedremo Mi raccomando Mettete mi piace Iscrivetevi E che ne giuro Che siamo voi Bella Un giorno Ti Con Tu Ti 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 Ti